Castel San Giorgio, San Rocco, la festa, tutto pronto per i festeggiamenti in onore del Santo Patrono di Castel San Giorgio. Gli eventi religiosi sono approntati dalla parrocchia Santa Maria delle Grazie. Il comitato festeggiamento ha organizzato un ricchissimo cartellone di eventi. Tutti i giorni alle 19.30 la chiesa Santa Maria delle Grazie, la recito del rosario, alle 20 la Santa Messa, il 16 agosto. Alle 11 la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal parroco della Terra dei Fuochi, Don Maurizio Patriciello. Alle 19.30 per le strade della città la processione della statua di San Rocco. Sempre giovedì 16 agosto alle 10 di mattina concerto bandistico a città di Castel San Giorgio per le strade del paese. Sabato 18 agosto invece concerto dei Bagaria Band. Chiuderanno i festeggiamenti Nico e i suoi desideri. Ci vediamo il 19 agosto, Castel San Giorgio, super concerto. I desideri in concerto, Nico desideri in concerto, mega live. Castel San Giorgio, San Rocco, la festa.